Sede nuova per l'UGL Abruzzo che in via del Santuario 166 a Pescara ha aperto i suoi locali. La struttura continuerà a garantire diversi servizi al cittadino e già si è al lavoro. Il segretario regionale UGL Abruzzo Gianna Diamicis precisa che c'è stato un incremento di richieste e di domande al sindacato di chi vuole accedere a bonus e agevolazioni a causa della crisi che morde. Il percentuale di quanto è cresciuta? Rispetto ai servizi soprattutto fiscali circa il 70%. Quello di cui il cittadino ha bisogno è veramente l'assistenza fiscale che è diventata anche complessa in Italia, poco comprensibile. Siamo felici, prosegue il segretario UGL, di offrire una nuova sede ai cittadini qui in via del Santuario a Pescara facilmente accessibile. Per noi è importante in questo momento storico economico soprattutto offrire ai cittadini risposte. Quindi noi abbiamo la sede oltre a avere la sede del sindacato e la sede del CAF e del patronato. Perché in questo momento, ripeto, storico economico in cui c'è la difficoltà proprio a mettere il pasto in tavola. Quindi abbiamo bisogno anche di far capire ai cittadini quello che è possibile avere. Tania Sarchiapone, responsabile CAF UGL, spiega ai cittadini l'importanza del rinnovo Ise e alla luce anche delle novità previste nella manovra di bilancio, non sempre così semplici da apprendere. Allora, l'Ise è scaduto il 31 dicembre 2022 e va obbligatoriamente rinnovato per poter continuare a soffrire dei bonus. Ciò significa reddito di cittadinanza, assegno unico, perché se non si rinnova l'assegno unico rischia che non lo possono più percepire. L'assegno unico non deve essere rifatta domanda, basta il rinnovo dell'Ise. Questa è la novità fondamentale. Un'altra novità fondamentale è che per usufruire dei bonus luce, gas, idrico, passa da 12.000 il valore dell'Ise a 15.000. Quindi l'hanno analizzato così più persone ne possono usufruire. Altro documento tra acronomi e sigle è la DSU. Nella DSU vengono inseriti tutti quanti i dati di tutti i componenti del nuco familiare e questo fa sì che scaturisce l'elaborazione dell'Ise. Per poter usufruire di tutte le agevolazioni va presentato sia la DSU che l'Ise. Il segretario provinciale UGL Chieti Pescara, Armando Foschi, precisa che innanzitutto il sindacato è a difesa dei lavoratori ed elegga poi i servizi che vengono offerti ai cittadini. CAF, patronato, CAF quindi parliamo di denuncia di redditi, ISEE, reddito di cittadinanza. Per quanto riguarda il patronato, le pratiche di pensione, reversibilità, invalidità e NASPI. Per quanto riguarda il nostro corso, le pratiche di pensione,